A partire da giugno Trenitalia istituirà il treno diretto Bari-Roma, chiesto a gran voce dal sindaco De Caro. Il collegamento non dovrebbe prevedere fermate intermedie come quella di Foggia. Tutto questo al primo cittadino del capoluogo Dauno, Franco Landella, non va giù e chiede un miglioramento complessivo della mobilità su ferro per l'intera Puglia, per Foggia in particolare, che merita un incremento delle corse verso la capitale, anche perché, aggiunge Landella, i minuti di recupero sulla tratta Bari-Roma, ipoteticamente guadagnati dalla mancata fermata a Foggia, saranno persi per via dell'utilizzo di vettori meno veloci. Ma da Bari arrivano le prime risposte. Il consigliere comunale del PD Massimo Maiorano, intervistato dal quotidiano italiano, spiega come l'utenza foggiana non andrebbe a perdere nessun servizio. I treni esistenti rimangono tutti, quindi da Foggia a Roma si impiegano tre ore e, come ho detto prima, a regime, nel tempo, anche loro impiegheranno meno tempo per arrivare a Roma, da Foggia a Roma, perché, come ho detto prima, con i lavori che stanno facendo sull'infrastruttura Foggia-Caserta, già hanno superato Cervaro e Cervaro-Bovino, quindi a regime, con la nuova velocizzazione della linea, sicuramente anche lì risparmieranno tempo e nel tempo arriveranno anche loro a due ore e mezza, più o meno, l'arrivo a Roma. Quindi non vedo il motivo per cui... È un caparismo inutile in questo caso. Stanno osteggiando una battaglia inutile, perché poi esiste già il treno non stop Roma-Firenze, Roma-Milano e nessuno dice niente, non vedo perché solo in Puglia o a Bari succedono queste cose.